e rieccoci qua in un nuovo episodio di questa serie in compagnia di Lara allora che fine ha fatto il bastone? ah il bastone è su? ok allora intanto devo aggiustare questa cosa nell'inventario ah il bastone 1 non si può modificare va bene il sole sotto, il revolver di qua, ok allora 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 qui abbiamo il teschio sono finito ultimamente il Lara Croft precedente a questo e quindi porterò anche quello in live di tutta la serie su youtube in live qui su Twitch allora configgi il tirannosauro in meno di 3 minuti un obiettivo dove sarà? mamma mia ce ne ha di energia vediamo un attimo se ho qualche arma un pochino più sprint il lancia fiamme oddio c'ho questo e quasi quasi lo mettiamo perché magari gli fa un pochino più danno ah un po' si se lo becco ovviamente vabbè non c'è problema sconfiggere questo in meno di 2 minuti ci vogliono le bombe vai vassa qua ah ti uccide con un colpo pure interessante molto interessante allora che male vieni qua oh quelle si che gli fanno male però escono per questi tizi spero si reattivi reattivi questa rosa la prende un altro via 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 abbastanza doloroso sogniamo un altro mighty oh maia di kit maia di kit maia di kit ah qui c'è un altro ok allora dove sta il prossimo? qua oppure il teschio in mezzo ok non troppo doloroso vieni qua vieni qua orca non so se ce l'ho fatto oppure no a vedere Totec ti sei perso tutto il divertimento Xolot ha quasi raggiunto la fortezza non potremo sconfiggerlo una volta al sicuro tra quelle mura allora dovremo fermarlo prima che ci arrivi dirigiamoci al tempio occidentale forse potremmo tagliargli la strada io lo inseguirò verso nord fa attenzione Xolot semina trappole ovunque il suo rivalo era praticamente solo questo non ho realizzato nessuno degli obiettivi fanculo mettiamo le pistole apri la porta oh e qui che cosa dobbiamo fare? stai un po' da capire come si fa allora 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 c'è un po' da capire Vabbè vabbè easy questo apertura di regali natalizi per lo più alcolici la difficoltà meno male che c'è il medikit ok è quello che mi si prende oia oia allora una lo butta da giù eh devo riuscire a prendere quello allora che doppia schivata da panico ma com'è sceso quel teschio allora 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 ah il teschio me l'ha dato preso forse bisognava sacrificare la propria esistenza eeeh oh qua sotto armi armi le uzi le uzi allora al posto dei revolver equipaggiamento inventario gufo freccia coltello ma che succede qua vediamo un po' è difficile è difficile che faccia oh c'è oh che cosa è quello ah ok ce l'ho mamma mia che cosa ho capito adesso allora metto una bomba qua poi rampino di qua c'ho così ci vado sopra faccio scoppiare ah mamma mia che genio oppa ma non fatto ho trovato freccia di pietra non è un'arma però ma non fatto di pietra preso qui dentro invece come si fa come lo libero sinceramente non lo so lì si può scendere ancora quindi scendiamo c'è una palla lì dentro facciamo così e spingiamo questo spingiamo di sotto quindi uno lo mettiamo qua oh oh cazzo sembra non risentire affatto dei miei colpi e adesso e adesso finita la munizione oh cazzo oh cazzo il sole è normale ok mi riprendo un medic kit sposto una palla qua ce n'era un'altra la mettiamo qua ok quanto pare Lara non ha non ha alcun danno da caduta allora dobbiamo mettere la palla qua poi una mina qua riportiamo la palla non hanno gradito aia ma devo dire schiattano parecchio in fretta a livello normale questi altra palla al suo posto poi quindi lì è risolto quello qui si è sbloccata questa situazione ho capito ho capito va bene e qua qua non si è ancora aperto qui c'è per far cadere una palla schiattate tutti schiattata in maniera potente allora mettiamo questo qui facciamo scendere la buttiamo fuori è un'altra palla è fatta buttiamo di sotto e questa la mettiamo qua oh merda no ti prego perché non ce l'ho fatta morti quasi inutili perché comunque adesso gli è piaciuto di più il salto bene chissà se è aperto quell'altro andiamo un po' a vedere sembrava la mancasse invece invece niente questo è così eh ma non ci arrivo mica io da sopra forse con la lancia uh ok adesso qui ci va una palla quindi sicuro dobbiamo entrare qua un po' a mietta un po' a mietta sta spiattando dimmi ultimo cassetto cioè sono rimasto cioè sono rimasto con uno sputacchio di vita ma vaffanculo ma vaffanculo va ma vaffanculo poi un po' a mietta per un po' a mietta sta ok pochissimo tempo devo prima salire sulla palla poi sposto mettiamo la bomba la tiriamo via ma secondo me se questa palla la metto prima qua sopra mi sblocca qualcosa se riesco a mandarla qui potenziamento salute ci sta ok mettiamo anche questa qua c'è il suo percorso dopodiché devo riscendere fin sotto oh è morta ok quindi un danno da caduta in una certa ci sta sembra un po' strano si deve almeno aggrappare e che succede che no ci spariamo una lancia ah no non c'è neanche bisogno così ho due palle adesso mettiamo la pistola normale oh cazzo che male ho premuto per sbaglio a start ok diamine munizioni 1 2 ah dobbiamo portarle lì dentro una e con questa penso siano finite oh la scuola le blocca io non ci posso entrare in questo simpaticissimo ok 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 questo simpatico giochino non c'è non c'è che mi sopporti eccolo mi sto prendendo pure io qua grazie grazie prego le ultime due bocce una no ce n'è un'altra di boccia dove sta allora beh non ci riesci a passare sotto maledetta qua si deve saltare ok ok lancia e quindi qua sopra c'è l'ultima e quindi qua sopra c'è l'ultima ah ah ma io pure ho la maglia di lana ma non lo so andiamo qua allora ok tecnica delle bombette facciamo scavalcare di tutto ok ok un po' che ci sta un altro teschio quattro di dieci quindi quindi là la situazione è risolta ok 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 meno male non esce più niente qua top ok 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 eh no devo andare qui dove sta questo anello fottuto è a posto portato l'altra sfera è in assenza principale ce l'ho fatta ora mi uscirà tipo il mondo che non gradisce che posiziono l'ultima sfera ah ah finalmente ah finalmente ok ok questa antica tomba fuggi dal tempio che succede? no iniziano a chiudere sti cose a posto che cosa c'è che cosa che truffa è Oh no S'ho buggato in mezzo Incredibile No Volevo prendere il teschietto Non sapevo facesse cadere pure le mattonelle Vaffanculo Ah qui Conviene Agire con cautela Oh merda No Ci siamo E l'ho completata Alla fine ce l'abbiamo fatta Continua Alla fine ce l'abbiamo fatta